Buongiorno a tutti, lunedì sera le firme del fatto che da più di quattro mesi commentano la guerra tra Russia e Ucraina si sono alternate in una bella maratona polifonica che molti di voi hanno apprezzato, ce l'hanno anche scritto, la guerra delle idee, l'abbiamo intitolata e l'abbiamo dedicata all'informazione libera e plurale che tanto manca in questo paese e non soltanto in questo, abbiamo parlato dell'aggressione russa al popolo ucraino, ma abbiamo parlato anche della guerra alle idee che si è scatenata in Occidente a cominciare dall'Italia dove se in Russia è vietato parlare di guerra senza passare per traditori, in Italia è vietato parlare di pace o anche soltanto di negoziato senza passare per putiniani e finire in qualche lista di proscrizione con tanto di fotosegnalettiche in prima pagina. La nostra serata la potete rivedere o vedere per la prima volta se ve la siete persa sul fattoquotidiano.it, il nostro sito, sui canali social del fattoquotidiano, mentre invece i singoli interventi sono disponibili sul sito ma anche in forma scritta se li volete leggere o rileggere. Intanto però, lo sapete, la guerra ha scatenato conseguenze economiche pure in Occidente, soprattutto in Europa per le sanzioni o meglio per le autosanzioni e per i costi delle materie prime e si fanno sentire queste conseguenze per tutti, per voi, molti di voi lettori ci hanno scritto allarmati per i costi dell'energia, per gli aumenti delle bollette, per il costo della vita in generale e non tutti ce la fanno. Per questo abbiamo pensato di offrire un abbonamento digitale particolarmente scontato. Anche noi come giornale, come azienda subiamo, non avendo santi in paradiso, conseguenze gravissime per i rincari della carta, per la crisi delle edicole. Siamo una comunità, quindi ci dobbiamo aiutare a vicenda. Ci appelliamo a voi, se potete continuate a sostenerci, intanto acquistando il fatto, possibilmente tutti i giorni, perché si chiama quotidiano, proprio perché esce su tutti i giorni in edicola, oppure segnalatelo, suggeritelo ad amici, a parenti, se potete abbonatevi, regalate se potete abbonamenti ad altri. Noi in cambio ce la metteremo tutta, come sempre, ma se possibile ancora di più, per informarvi in maniera sempre più libera e sempre più completa, esempio e più plurale, anche con iniziative speciali come la serata di lunedì. Grazie a tutti, a presto.